La prima camminata è rosa nel comune di Fano. Quest'anno ci coordiniamo con tante realtà associative del territorio che hanno voluto contribuire a questo appuntamento per dedicare un appuntamento di movimento insieme, una camminata libera per la prevenzione e la cura del tumore al seno. All'interno del mese dedicato alla prevenzione in un calendario di appuntamenti molto ricco e questo è uno di questi. È una camminata che si svolgerà domenica, domenica mattina. Abbiamo avuto già tantissime prenotazioni. Voglio ricordare per chi volesse ancora prenotarsi è possibile farlo chiamando al numero 0721-887337 oppure in una piattaforma online dal sito del comune di Fano. In quell'occasione verrà distribuita la spilletta del mese della prevenzione e la maglietta dedicata appunto a questa giornata. È un evento libero, non agonistico, per cui non c'è l'obbligo del Green Pass. Diciamo che staremo in molti, per cui nei momenti in cui magari si è un po' più vicini sarà utile comunque avere magari la mascherina. Uno se la porta così nella mano e magari con se c'è un po' più di vicinanza se la mette. L'obbligo di disinfettare le mani, insomma noi ci saranno dei dispenser al momento dell'iscrizione alla mattina in piazza 20 settembre, quindi ci si potrà comunque disinfettare anche le mani. Quindi disinfettazione delle mani e mascherina. Grazie.